Si è svolto nella giornata di domenica 19 maggio presso la piscina Elysium il campionato italiano di nuoto salvamento e nuoto promozionale FISDIR, riservato ad atleti diversamente abili a livello relazionale. La manifestazione, organizzata dalla FISDIR in collaborazione con la Rari Nantes Campania Special Team, è stata patrocinata dal comune di Agropoli, dall'associazione Autism Aid Olus e da Cilento For All. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di mettere ai nastri di partenza quasi 270 atleti provenienti da tutta Italia che ci hanno premiato della loro presenza proprio perché hanno constatato già l'anno scorso e poi confermato quest'anno la bontà dell'organizzazione, la bontà della struttura e di tutto quello che ha riguardato questo campionato. Quest'anno effettivamente ci possiamo ritenere molto soddisfatti perché comunque sia l'organizzazione sia la struttura ci hanno dato la possibilità di realizzare questa splendida manifestazione. Il Comitato Paralimpico si interessa di tantissimi sport, di 40 federazioni sportive, la FISDIR è una di queste federazioni e quindi il fatto che abbia scelto e puntato all'attenzione su Agropoli per portare i campionati nazionali di nuoto è sicuramente un fatto importante e che premia il lavoro che tutto il movimento paralimpico sta facendo a livello regionale con le società sportive, con le federazioni regionali, con gli atleti, con le famiglie, quindi un lavoro composito che alla fine produce degli ottimi risultati. In questo campionato abbiamo visto soprattutto tanti ragazzi giovani e soprattutto bambini che deve essere il trampolino di lancio per l'attività colistica. Io spero che un giorno la maggior parte di tutti questi ragazzi li possa vedere in campionati italiani assoluti della FISDIR. Però il livello è abbastanza buono, i tecnici di società lavorano bene, si impegnano e poi i risultati dei loro sforzi li prendiamo noi come allenatori della nazionale. È stato un successo, veramente siamo orgogliosi di aver potuto ospitare per il secondo anno consecutivo una manifestazione, un evento così importante. Hai detto bene, campionato italiano, 270 atleti disabili relazionali e 34 società provenienti da tutto il territorio nazionale, Milano, Bergamo, Pesaro, Ancona, Foggia, Taranto, insomma veramente tutta l'Italia. Noi siamo orgogliosi dal punto di vista sportivo e poi è un evento davvero che ci fa crescere sotto tutti i punti di vista, sportivi, umani, sociali e perché no, turistici, perché abbiamo creato un notevole movimento turistico qui sul nostro territorio.